Sono trascorsi 78 anni da quando il 27 gennaio 1945 l'Armata Rossa entrò nel campo di concentramento di Auschwitz, liberando i sopravvissuti allo sterminio nazista. Oggi in prefettura Pescara la giornata della memoria è stata celebrata con la consegna di sei medaglie al valore ai familiari di alcuni internati italiani nei lager tedeschi. È passato tanto tempo, ha detto il prefetto, ma lo Stato non dimentica. Alla consegna di queste medaglie, anche se diamo ai familiari perché i diretti interessati non ci sono più, è il segno che lo Stato non dimentica. Quindi nonostante siano passati molti anni è fondamentale ricordare e assicurare la presenza dello Stato. Grande commozione per i familiari a cui la furia nazista ha strappato i loro cari. Ma dalla pagina più orribile della storia contemporanea emergono anche racconti in cui il protagonista è la solidarietà. La testimonianza arriva dal nipote di un ragazzo morto a 20 anni a seguito degli orrori della detenzione. Dopo essere arrivato a Luf fu preso dai tedeschi e fu internato in un campo di concentramento dove rimase per un anno. Poi a giugno del 44, lui andò nel 43, a giugno del 44 fu, tornò in patria a Padova. Era una persona che era alto 1,85, non 90, pesava 35 kg. Fu ricoverata all'ospedale militare di Padova dove morì perché non riuscì a superare quel gap di malessere che lui aveva avuto dentro questo campo di concentramento. Mi piace dire che quando arrivò alla stazione ferroviaria di Padova, questo mi piace dirlo per dare onore a questa signora, una signora che praticamente tutti i giorni stava lì per cercare di individuare il figlio perché anche lei aveva due figli che erano dispersi. E allora quando arrivò mio zio, siccome in quelle condizioni in cui era, pensò che era suo figlio. Quindi insomma si confuse un attimino, ma nonostante che poi dopo alcuni giorni capì che non era suo figlio, accudì amorevolmente mio zio per il mese che campò all'ospedale di Padova. E si occupò persino di quelle pratiche funebre per il Camposanto.